La storica della moda dà ragione alla vicepreside sulla minigonna a scuola. Oggi prevale il modello lolita, serve un regolamento che stabilisca i limiti nelle scuole. Lolita significa malizia e significa comportamenti consapevolmente seduttivi rivolti ad un adulto e mi farà brevidire leggerlo in riferimento alla generalità delle adolescenti, così come mi farà brevidire leggere di abolire la minigonna perché distrae il compagno o perché cade l'occhio al prof. Si dovrebbe, credo, responsabilizzare colui che si distrae dal proprio compito e si dovrebbe parlare di decoro, quindi rivolgersi a tutti i ragazzi e ragazze e parlare di rispetto di persone, istituzioni e ruoli. Questo titolo così costruito mi ha molto colpito perché al di là del contenuto dell'articolo che poi non tutti andiamo a leggere, mi ha subito richiamato alla mente la violenza di genere. In teoria una donna è libera di scegliere come vestirsi, però incontra il limite di chi la guarda e la responsabilità di come viene vista ricade su di lei ed è inevitabile se si ragiona pensando poteva evitare. Anche oggi, ancora oggi, troppo spesso anche nelle aule di tribunale si sente parlare della vittima andando alla ricerca di comportamenti che potevano essere malinterpretati o cose che potevano essere dette o fatte in maniera differente. Ma il problema non è la vittima, il problema è l'interlocutore e cosa pensa e cosa vede lei. Quindi io credo che se vogliamo liberarci della violenza di genere e della violenza tutta dobbiamo sempre partire dall'educazione al rispetto e che deve essere negli occhi di chi guarda e nei gesti di chi compie. Io non voglio strumentalizzare un singolo episodio ma leggere che anche in Francia intervengono ministri e professori rispetto alla minigonna a scuola e all'opportunità di reinserire le divise credo sia un chiaro segnale che qualcosa ancora lo stiamo sbagliando in termini di educazione alla non violenza. Vorrei però chiudere con un segnale positivo che arriva da alcune ragazze veneziane anche loro invitate a non distrarre i compagni durante l'ora di educazione fisica nascondendo le forme che credo nel loro slogan abbiano riassunto in maniera decisamente efficace quello che dovremmo invitare a fare quando ci troviamo di fronte persone che non vogliono affrontare il vero problema. Cambiate mentalità, non i nostri vestiti.